ciao e benvenuto a questo nuovo video quali sono le quattro cose che più mancano della thailandia le vediamo insieme dopo la sigla prima di cominciare il video ti chiedo se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche riceverai appunto notifiche dei prossimi video e anche delle prossime live che faremo sul canale portante per far crescere il canale il mio ultimo viaggio in thailandia è stato a febbraio 2020 dopo quella data come sapete il mondo è cambiato non è stato più possibile appunto tornare in thailandia dopo quasi 13 14 mesi appunto che manco dal paese volevo condividere con voi quali sono le quattro cose che mi mancano appunto della thailandia e le andiamo a vedere insieme la prima cosa che più mi manca della thailandia sono i templi e l'atmosfera buddista personalmente una cosa che ho sempre fatto durante i miei viaggi in thailandia ma in tutto il sud est asiatico è sempre stata quella di spendere giornate a visitare i templi a respirare un po l'atmosfera che c'era le tente a sentire questa preghiera buddista ed è una cosa che sempre mi ha quasi toccato e colpito particolarmente è una cosa che consiglio tutte le persone che magari per una volta si affacciano a visitare un paese in asia o in thailandia specificatamente la seconda cosa che più mi manca della thailandia è la città di bangkok ho visitato tantissime metropoli asiatiche durante i miei viaggi nel sud est asiatico ma benko che quella che ha qualcosa in più ha una vita notturna assolutamente incredibile un paesaggio affascinante con il cio fra il fiume che lo attraversa la possibilità di fare shopping in centri commerciali assolutamente di primissimo livello e poi forse di conviene guardare questo a presto La terza cosa che mi manca della Thailandia è molto semplice ma secondo me molto importante è la possibilità di fare un massaggio thailandese, spesso quando andiamo in Thailandia passiamo le nostre giornate, se non siamo magari in spiaggia o in qualche isola, camminare tutto il giorno e arriviamo alla sera stanchi, un massaggio thailandese è esattamente quello che il nostro corpo necessita per poter riprendere e non avere più dolore a piedi, gambe ma anche a tutto il resto del corpo. In Thailandia un massaggio può costare dai 300 ai 500 watt quindi parliamo di una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 16 euro per un'ora di massaggio fatto con energia e con tipico spirito thailandese, è un'atmosfera, è un'esperienza assolutamente da fare che consiglio, considerando anche quanto ad esempio in Europa costino i massaggi appunto a differenza della Thailandia. Quanta cosa mi manca di più della Thailandia? Sono i mercati notturni e lo street food. come molti di voi sapranno comunque chi è stato in Thailandia o nel sud sasetico in generale sa bene, ogni sera più o meno dopo le 5 pomeriggio ovunque troverete questi mercati che fondamentalmente vendono cose da mangiare ma vendono anche un sacco di merce molto semplici, può essere vestiti o accessori di tecnologia a basso costo, scarpe, tutto quello che volete comprare sicuramente lo troverete lì. Come sempre vi ricordo quando siete lì trattate un pochino i prezzi perché c'è sempre un pochino di margine, non siate mai educati offrendo prezzi che non hanno senso ma un po' di negoziazione è sempre possibile. Secondo me è un'altra esperienza che da chi va in Thailandia o comunque nel sud sasetico da una passeggiata al mercato notturno e provare i cibi locali o street food è qualcosa che non puoi non fare. Vediamo ragazzi queste erano le quattro cose che più mi mancano della Thailandia dopo quasi 13 14 mesi che non posso andarci ovviamente vi chiedo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti fatemi sapere cosa a voi manca di più della Thailandia scrivetemi nei commenti come sempre vi chiedo di lasciare un like al video se vi è piaciuto perché questo può supportare il canale con l'algoritmo di youtube iscrivetevi iscrivetevi al canale questo è importante come sempre noi ci giorniamo al prossimo video ciao 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 ciao